E così, ora è un pilota. Gareggia con l'Alfa, un team imbattibile. Ascari, Campari, Wagner. E lei. E lei vince. Primo al Mugello, primo all'Osta San Bernardo, poi finalmente il Trofeo Baran. Vuoi giocare tu? Ti accontenti! Mio figlio Francesco lo teneva sulla carlinga del suo aeroplano. Lo mette sulla sua automobile. Vedrà che le porterà fortuna. Signora, io non lo merito. Suo figlio era un vero eroe. Anche lei lo è, a suo modo. La prego, lo accetti.